su questo tema, noi cambiamo punto di vista. Io non ho altro da dire come introduzione, ci sono domande così non so, poi iniziamo subito. Cominciamo? Cominciamo, va bene. Allora, io a questo punto condivido lo schermo. Eccolo qua. Poi questo non serve più. Questo neanche, qui siamo a posto e qui siamo nel corso. Allora, incominciamo pure a vedere come è strutturato il nostro corso. Prima di tutto avete le regole di ingaggio. Queste regole di ingaggio sono una indicazione, rappresentano una indicazione didattica per i vostri studenti. Volevo solo vedere qua. La registrazione funziona. Ok, mostro il pannello video, perfetto. Dunque questa è anche un'indicazione per i vostri studenti perché nei momenti in cui noi parliamo di creatività e di bellezza dobbiamo un po' ribaltare i concetti tradizionali con i quali ci approcciamo all'insegnamento. Quando noi insegniamo, prepariamo delle lezioni, trasmettiamo dei contenuti, badiamo molto, diciamo così, al risultato, all'efficacia che questa trasmissione può avere, a come i nostri studenti recepiscono. Non guardiamo tanto alla forma, alla bellezza estetica di quello che facciamo. Come si dice, si va al sodo. Anzi, molto spesso nella scuola la forma non è ben vista, a meno che non ci siano delle discipline, non si insegna delle discipline che hanno per forza a che fare con la forma, con la bellezza o la creatività. Allora, noi invece, in questo corso, vogliamo tenere in grandissima considerazione proprio l'aspetto estetico e vogliamo produrre delle belle cose e vogliamo fare in modo che i nostri studenti producano delle belle cose e quindi che ci sia un godimento in quello che si fa, che sia al di là di un godimento intellettuale, di comprensione di ciò che si è studiato. Quindi, dobbiamo cominciare a fare in modo che questa mentalità, un po' diversa, venga recepita fin dall'inizio. Ecco perché voi avete le regole di ingaggio. Cioè, come dire, attenzione, perché state partecipando a un corso che non è come tutti gli altri. Quindi, si richiede un certo impegno da parte vostra. Ma si richiede un impegno orario, un impegno materiale particolare, è questo che intendi? No, si richiede un impegno proprio intellettuale di approccio differente. Per questo è un impegno, perché normalmente voi non siete abituati a iscrivervi a un corso, per esempio, dove vi si dice che se pensi che l'insegnamento non abbia nulla a che fare con la creatività e la bellezza devi abbandonare il corso. Oppure, abbandoni il corso se negli ultimi 90 giorni hai detto, guarda che non è un gioco, stiamo facendo una cosa seria. Cioè, se contrapponi il gioco alla serietà delle cose che fai. Oppure, se negli ultimi 90 giorni hai pensato che insegnare in presenza, a distanza, eccetera, voglia dire applicare delle procedure. Se pensi che l'insegnamento si riduca a delle procedure, è sbagliato corso. Oppure, se pensi che ispirare sia sinonimo di ispirare, per esempio, no? Oppure, ti imbarchi con noi, quindi partecipi a questo corso se hai almeno una passione. Cioè, se metti qualche cosa di te, di tuo, se questa passione in qualche modo è visibile all'interno di questo corso, se la ami, se vuoi ispirare altre persone. Cioè, se utilizzerai questo corso per fare in modo di ispirare i tuoi studenti a una determinata visione. Se vuoi fare questo corso facendoti ispirare dai tuoi compagni, oppure facendo, proprio per fare un viaggio con loro. Quindi, e infatti lo vedremo poi quando faremo poi gli esercizi, eccetera, li discuteremo insieme. Si potrà intervenire, vedere, chiedere, insomma, affinché ci sia questa reale condivisione. Partecipi al corso se pensi che la bellezza sia tutto e la forma vince sul contenuto. Questo è un argomento spinoso, ne parleremo poi di sfuggita quando andremo avanti. Se hai fiducia nelle tue possibilità, eccetera, eccetera. Allora, voi potete stabilire le regole di ingaggio che preferite, perché siete voi gli insegnanti, sono vostri gli studenti, è vostra la disciplina che insegnate, quindi stabilirete voi in che modo accogliere i vostri studenti, proponendogli delle regole di ingaggio, accoglierli dove? In un mondo nuovo, in un mondo dove, all'interno del quale, dei valori che prima erano trascurati, invece diventano importanti. Quindi, come dire, la prima regola, se vogliamo cambiare veramente atteggiamento su un tema preciso, che è quello della bellezza e quindi della creatività, nella quale questa tematica si iscrive, se vogliamo cambiare l'atteggiamento su questo tema, noi dobbiamo lavorare fin dall'inizio. Cioè, detto in altri termini, noi non possiamo svolgere tutta una serie di lezioni in modo eseramente tradizionale, che vanno benissimo, si prepara per la lezione, si spiega, si fanno esercizi, eccetera, eccetera, e poi un bel giorno parlare della bellezza di quello che facciamo. No, perché la bellezza è qualche cosa che noi dobbiamo seguire sempre, che dobbiamo curare, che è qualche cosa che va, sulla quale l'occhio, l'intelligenza, la nostra sensibilità vanno allenate, deve esserci questo allenamento, questa cura. Ecco il significato, appunto, delle regole di ingaggio che voi, che vi ho proposto, che voi avete dovuto accettare. L'accettazione di queste regole vi pone un problema, perché vi fa pensare a quello che qui c'è scritto. Ed è esattamente questo stimolo a pensare a ciò che qui c'è scritto, che dà valore a queste regole. E notate che queste regole non hanno niente di istituzionale, cioè non dicono non puoi entrare a scuola cinque minuti dopo la campanella, non tirare la cartella in testa al compagno, disinfettati le mani quando rientri in grado. Non c'entra niente con le regole istituzionali. Sono delle... è un invito, è un invito a una riflessione su dei temi che normalmente non vengono affrontati. Io caldeggio questo approccio, quindi quello delle regole di ingaggio, ogni volta che voi vi trovate a organizzare dei corsi, dei progetti, un periodo di attività con i vostri allievi, che in qualche modo non ha niente a che fare con una classica attività istituzionale. Allora, come dire, cristallizzate questa rottura in modo che venga assimilata. Bene, è chiaro questo? Vedo che poi i diversi avete scritto, naturalmente avete accettato le regole e è perfetto. Vi era stato chiaro questo approccio fin dall'inizio? Sì, sì. Sì? Sì, bene. Perfetto. Adesso vediamo invece il nostro tema. Il nostro tema. Quindi, di cosa parliamo in questo corso e cosa cominciamo a fare oggi e quindi anche i compiti preliminari? Vi vediamo insieme e poi vediamo insieme anche il compito della giornata. Dunque, in questi... In questi incontri noi ci occupiamo di tematiche, come avete visto, che riguardano la creatività, la bellezza, ma... Da quale punto di vista? Questa è la domanda. In primo luogo, dal punto di vista dell'autore. E voi chiedete, ma chi è l'autore? Beh, l'autore siete voi. Voi siete gli autori dei contenuti che trasmettete ai vostri studenti, o sui quali lavorate con i vostri studenti. Allo stesso tempo, gli studenti sono gli autori dei contenuti che a loro volta preparano. Quindi, noi dobbiamo proprio cominciare a considerare che questo concetto di autore, di essere autori di qualche cosa, è un concetto che va proprio assimilato e deve diventare parte del vostro punto di vista. Ora, che cosa fa un autore? Un autore prima di tutto produce un'opera, quindi un autore di romanzi scriverà un romanzo, un pittore produrrà dei quadri, un fotografo fotograferà. Che cosa distingue un autore da un altro collega che lavora nel suo stesso campo? Per esempio, tra due fotografi, tra due scrittori, gli distingue lo stile. Lo stile è ciò che contraddistingue un autore da un altro. Allora, la prima riflessione che noi dobbiamo fare è proprio sullo stile. La domanda è, ma voi avete un vostro stile e siete consapevoli di avere un vostro stile? Ora, la risposta è sicuramente sì, voi avete un vostro stile. Un insegnante di matematica si distinguerà da un suo collega che insegna matematica. Un maestro elementare che si occupa delle materie umanistiche si distinguerà da un suo collega. Gli stili sono effettivamente diversi. Ma quanto voi siete consapevoli del vostro stile? Punto numero uno. Prima domanda. Quanto siete consapevoli del vostro stile? E seconda domanda. Quanto voi avete lavorato sulla rappresentazione del vostro stile? Per esempio, se io vi chiedessi, qui a voi 35 e 32 presenti, se avete un marchio che vi rappresenti, io non credo che voi avete un marchio che vi rappresenti, proprio un marchio, sapete, come Barilla, come Chrysler, come Apple. C'è qualcuno di voi che ha un marchio che lo rappresenta? C'è qualcuno di voi che... Sì, io l'ho fatto fare. No, tu, tu, tu hai un marchio che lo rappresenta? Sì, sì, ce l'ho. Ah, ce l'hai. Ce l'ho, lo uso nelle mie presentazioni, nei miei corsi, sì, sì. È fantastico questo. Molto bene. Ce lo puoi far vedere poi? Sì, vediamo, aspetta che vado a recuperarlo da qualche parte. Sì, quando l'hai recuperato vado avanti, quando l'hai recuperato poi... Bene, è fantastico questo. Ma normalmente un insegnante non ha un marchio. Non gli viene neanche lontanamente in mente che può essere rappresentato attraverso un marchio. Ma che cos'è un marchio? Un marchio è un simbolo che rappresenta lo stile di una persona. Ma avere un marchio significa che poi, se scrivi una lettera, devi usare un determinato font, determinati colori, una determinata impaginazione. Se prepari una lezione, lo farai attraverso un determinato stile. Questo stile viene codificato. È lo stile che rappresenta quell'insegnante. Ora, nessun insegnante fa questo. Combinazione, incredibilmente, ne abbiamo una qui che ti ha fatto... Ci sono, quando vuoi. Dimmi, dimmi. Allora, tu chi sei intanto? Allora, mi chiamo Sabina Moscatelli. Quindi se vuoi vederlo, te lo faccio vedere. Certo. Allora, guarda, vediamo se... Condivido io? Condividi, certo. Condividi. Condividi e fai vedere il tuo marchio. Adesso mi vergogni un po', eh? Perché magari è una partita, però... Non c'è da vergognarsi. Tu sei... No, questo qua. È un caso rarissimo. Dunque, questo qua. Ah, vedi? Questo... FM. Perché tu sei... Sabina Moscatelli. Sabina Moscatelli, la teacher digitale. Dunque, tu che cosa insegni intanto? Inglese. Insegni inglese. Allora, intanto noi abbiamo una collega che non insegna grafica, arte, comunicazione visiva, per cui sarebbe stato... avrebbe avuto un marchio perché magari avrebbe svolto dei lavori fuori da scuola e quindi come professionista si sarebbe... Eh no, come professionista faccio tutt'altro, mi occupo sempre di linguistica. Esatto, ti occupi di tutt'altro. Allora, ci dici com'è nata l'idea di avere un tuo marchio? Perché, e come dici tu, altrimenti io avevo bisogno di qualcosa che mi connotasse, che mi caratterizzasse, che fossi io e non un'altra... volevo, non so, una comunicazione, se vuoi, abbreviata, semplificata, che è quella di un marchietto, di un logo che avesse dei colori, per me un significato. Assieme a questo c'è anche, adesso qua non so se si vede, dovrei avere anche l'emoji che ho realizzato con la mia faccina, alcuni dettagli che mi caratterizzano, tipo un pendaglietto che porto sempre, che ha questi fiorellini qua, i sakura giapponesi. E quindi niente, ho deciso di farlo per quello, perché volevo che anche i materiali in classe, ripeto, oltre che nella professione o nell'attività di formatore, avessero una nota personale. Che fosse veloce, ecco, un linguaggio che non dovessi stare a spiegare, che si capiva, ecco. Bene, benissimo. È fantastica questa cosa, perché qui mai avrei creduto di poter aprire i corsi in questo modo, perché proprio spiani la strada alla grande. Allora, lei dice che voleva in qualche modo essere riconosciuta, distinguersi. Beh, certo, voi pensate che uno studente può avere anche una dozzina di insegnanti, forse anche di più, se mettiamo insieme tutta una serie di progetti, anche extrascolastici, eccetera. Frequenta la scuola per tanto tempo, ha un'impressione molto istituzionale, perché è un'istituzione la scuola, quindi non potrebbe essere differente, nella quale un po' tutto viene omologato, no? Attraverso un tono medio, cioè non troppo eccessivo da una parte, neanche dall'altra. Ora invece abbiamo un soggetto che vuole uscire da questo schema. Prima di tutto perché dice, io sono io. Sono un essere vivente, una persona, che in qualche modo deve essere vista come qualche cosa di diverso. Allora, voi pensate che cosa vuol dire, per esempio, l'inclusione senza sostenere la diversità. Non può esserci inclusione nella omologazione, perché l'omologazione è il contrario dell'inclusione. L'inclusione può esistere solo nel momento in cui noi abbiamo a che fare con soggetti realmente diversi. Quindi può essere un paradosso, ma la prima cosa che dobbiamo fare è sostenere questa diversità. la diversità degli insegnanti e la diversità degli studenti. L'operazione finale è quella di un marchio, perfetto, no? Diciamo è l'operazione finale, nel senso che è complessa la realizzazione di un marchio, no? Ci si arriva un po' alla fine, se vogliamo. Però, fin dall'inizio, noi dobbiamo sostenere questa diversità per incoraggiare che cosa? Per incoraggiare la formazione di uno stile personale. Ora, immaginate, la nostra collega che si presenta con questo marchio, no? Tutte le slide, poi magari ci fai vedere qualche slide con... Sì, sì, se ne ho vere molto. ...con le caratteristiche, sì. E che impatto avrà sui suoi studenti? Cioè, cosa penseranno i suoi studenti? Beh, ve lo dico io cosa penseranno. I suoi studenti penseranno che questa è una buona idea e che magari anch'io, studente, potrei caratterizzarmi nello stesso modo. Anch'io potrei, in questo mondo grigio, omologato, emergere, se non altro, attraverso una distinzione. Apriamo due minuti di chiacchierata su questo tema. E tra l'altro, Sabina, mi dici a chi l'hai commissionato, come, diciamo, è stato costruito questo marchio? Sì, allora, guarda, la cosa è, appunto, io, come dici tu, sono arrivata al marchio alla fine di un percorso, non è stato l'inizio. Quando ho cominciato così un po' a... Io sono stata sempre un'appassionata di tecnologia. Quando ho cominciato a masticarne un po' di più, insomma, ho capito che volevo così personalizzare ulteriormente. Ho avuto la fortuna di lavorare, io insegno al liceo, di lavorare anche in un liceo artistico. e quindi ho chiesto, spessissimo io chiedo ai miei ragazzi dell'artistico di darmi una mano, anche perché mi piace dare loro una possibilità. Quindi sapevo che qualcuno, più di uno con cui sono rimasta in contatto negli anni, si occupava di grafica, mi conoscevano bene, sapevano quali erano le cose che volevo, perché ero stata loro insegnante per il triennio, e quindi ho chiesto loro di produrmi un marchio, ma l'hanno realizzato, insomma. Quindi l'hanno fatto i tuoi stessi studenti? Sì, sì, hanno fatto gli stessi studenti. Io che ho regolarmente pagato, perché appunto... Pagato, giusto. Assolutamente. Sì, sì, li ho pagati esattamente come li ho pagati quando hanno fatto le partecipazioni per la cresima di mia figlia, ecco. Però mi sembrava... Giusto, certo. Sì, li ho pagati, avevano finito la scuola, quindi non c'era... Gli ho regolarmente pagati. Hanno fatto... La ragazza, Silvia, che ha realizzato il logo, ha fatto il logo e anche le mogi, come dicevo prima, sapendo che appunto indosso sempre una particolare collanina, mi ha realizzato così, lo sapeva. Fantastico. E niente, la cosa era... Ecco, il fatto che sapesse che tu indossi una collanina, questa osservazione è il frutto anche di un rapporto personale interessante. Sì, sì, assolutamente. Loro sanno anche appunto che così adesso per contribuire al dibattito sanno anche che nelle mie lezioni possono aspettarsi le cose un po' strane, ecco, diciamo così. Sì, non sempre accolte con favore, nel senso che qualche volta la creatività, più di qualche volta la creatività chiede sforzo, chiede impegno. È faticosa. È faticosissimo, ma per loro, sì. Sì, sì, è faticosa. È faticosa. È faticoso, non sono abituati. No, assolutamente. Anzi, vengono, diciamo, anche da parte di molti colleghi, si rema in senso contrario, no? Per cui io uso i miei appunti dell'università, ah, tu me li restituisci paro paro, questo è... Certo, esatto. Esatto, è proprio così. È un uscire dagli schemi che non è semplice. No, no, è molto faticoso. Non tutti ottengono all'inizio risultati, diciamo, clamorosi, però alla fine, insomma, cose belle se ne sono fatte, ecco. Poi ci sono anche i lati negativi. Senti, un'ultima cosa. Quali sono le tue considerazioni sul fatto che hai continuato ad utilizzare questo metodo? Cioè che quali sono i risultati, ma i risultati sembra una cosa troppo schematica, no? Diciamo, che cosa ti ha convinto poi a non abbandonare il tuo marchio, andare avanti anche se la creatività appunto è complicata? Perché ritengo che, non so, mi sembra che questo modo di fare stabilisca fondamentalmente anche dei rapporti più liberi e più profondi con gli studenti, da loro degli strumenti come quello della creatività che serviranno, sono delle vere competenze che serviranno, al di là dell'inglese, che serviranno per tutta la vita. E poi c'è il fatto sostanzialmente che io sono così. Cioè questa, sono un po' io, questo è il mio modo di insegnare e di intendere l'insegnamento, che per me è anche un'autentica passione. La sperimentazione che si fa insieme con i ragazzi sono al di là del fatto che poi si partecipi a un progetto, che il dirigente dica che sei stato innovativo. Questo a me non interessa proprio, direi neanche marginalmente. Però mi è sembrato che appunto complessivamente ci fossero degli esiti, dei ritorni molto positivi, anche solo, ripeto, in termini di rapporti. E in questi ultimi due, tre anni, i rapporti hanno fatto la differenza, secondo me. Allora, i rapporti hanno fatto la differenza, è un'affermazione molto importante, a mio parere, e estremamente importante, è quando tu hai detto perché io sono così. Io sono così è proprio, come dire, una regola da assumere. Io sono così. Non perché è qualche cosa di narcisistico che non ammette discussioni. No, assolutamente, no, no, non l'ho intesa in questo senso. No, certo, chiaramente. Ma perché io come soggetto esisto, ci sono. Allora, se esisto io, esisti anche tu. Ma se non esistiamo noi, perché siamo all'interno di un'istituzione che esiste nonostante noi, queste relazioni come le costruisci? La tua personalità come viene fuori? Come potrai affermare il tuo modo di essere, il tuo stile, eccetera, nella vita? Non lo potrai fare. Giusto? Interpreto bene? Sì, sì, esatto, esatto. Scusami, non riuscivo a far ripartire. Sì, sì. Ok. Va bene, perfetto. Allora, c'è qualcuno che vuole intervenire un attimo su questo tema? Inaspettato, ma assolutamente importante e ci ha permesso di affrontare questa questione in modo molto... Io ho notato tantissimo l'urgenza negli studenti del marchio che purtroppo viene un po' appiattito sui profili social. Per esempio, c'è questa voglia fortissima di voler identificare attraverso l'immagine del profilo. Può essere una buona, come dire, anticamera di questo discorso da condividere con i ragazzi, secondo me, da approfondire in questo senso. Anche se sono cose un po' diverse, forse. No, mi viene da dire che i profili social, diciamo, sono molto stereotipati e non c'è una vera e propria elaborazione di un marchio, perché ricorda quello che ha detto Sabina, che il marchio, la rappresentazione di te, parte dagli elementi che ti appartengono, una collana, i colori, no? Quindi ci va una conoscenza. Quando si crea un marchio, ci sono dei colloqui, dei colloqui con l'azienda, dei colloqui con il professionista che avviene del marchio. Attraverso questi colloqui si cerca di capire la persona o l'azienda, l'attività lavorativa, eccetera, con la quale si ha a che fare. Per fare che cosa? Per ricavarne l'intima essenza. Cioè quello che tu non vedi, ma che fonda realmente il contenuto e la particolarità del soggetto o dell'impresa con la quale tu hai a che fare. Invece la rappresentazione sociale è radicalmente diversa. Tu segui un trend, segui una moda, no? Va di moda farsi la foto col cellulare verticale davanti a uno specchio e tutti fanno queste fotografie. Va di moda, non so, crearsi l'avatar automatico perché ha l'applicazione che ti trasforma la foto in una specie di carattere animato e tutti fanno questa cosa qua. Non c'è una vera elaborazione e non c'è soprattutto un'elaborazione che entra nell'intimità del soggetto, cioè che parte da quello che il soggetto è veramente. Quindi è molto educativo. Questo compito è molto educativo, no? Carlo, cosa dici? Trovi? Sì, sì, mi trovo appunto. Io ho avverto che i ragazzi vogliono identificarsi con qualche cosa che ha a che fare con un marchio, tra virgolette. Però se non hanno gli strumenti per tirare fuori... Se non hanno gli strumenti, se non si avvia un dialogo... Certo, a che cosa si identificano? Si identificano a una cultura di massa, a un trend di massa, che poi è una omologazione. Può essere un incipit buono proprio per portarli da quell'altro... Guarda, l'esempio più eclatante, secondo me, è TikTok, che è un social che all'inizio ha innovato molto, no? Perché sembrava proprio un sistema radicalmente diverso che si distaccava, eccetera. Ma adesso TikTok che cosa fa? Propone degli stereotipi. Sono quegli stereotipi che all'inizio apparivano come rivoluzionari o divergenti e che oggi, invece, rappresentano la normalità. Quindi tu entri in TikTok e trovi sempre la stessa modalità di comunicazione. Esatto. E quindi è il social che si differenzia, cioè TikTok che si differenzia da Twitter o da Facebook, ma non è il soggetto all'interno di quel social che si differenzia davvero e che porta avanti il suo stile. cioè è il social che assorbe lo stile e la personalità del soggetto e non permette al soggetto di tirarsi fuori. Questo è anche un bel discorso da fare, è molto interessante. Bene. Direi, se non ci sono altre osservazioni, possiamo andare avanti. Allora, cosa dite? Proseguiamo? Per me è ok. Sì, perfetto. Allora, Sabina, grazie. E poi, quando avrai le tue slide così, te li tieni lì perché al momento opportuno poi facciamo vedere. Sì, perché io invece sono in vacanza e quindi non ho tutto dietro. Non hai tutto dietro, è chiaro, è chiaro. Sono in vacanza anch'io. Ciao a tutti. Molti anche qua sono in vacanza. Allora, continuiamo, vediamo a quale punto si aggancia questo discorso dello stile. Cioè, come voi potete in classe cominciare ad affrontare un discorso che riguarda lo stile dei soggetti con i quali voi avete a che fare. Noi abbiamo agganciato, se avete visto, nella sezione di benvenuto, abbiamo agganciato qui, no, dove l'abbiamo messo? Compito preliminare. Eccolo qua. Allora, nei compiti preliminari, tra i compiti preliminari ne avete avuto uno curioso perché la palette dei colori va bene, perché è attinente, la bellezza, eccetera, eccetera, ma avete avuto questo modulo che si intitola La mia passione. vi è stato sottoposto questo modulo da compilare. Quindi, primo, racconto la mia passione e insegno la mia passione con due brevi testi. perché vi ho proposto questo compito? Perché, anche in base a quello che diceva Sabina prima, voi esistete, perché chiaramente siete in carne ed ossa, quindi tutti vi vedono, quindi la vostra esistenza materiale è la prima cosa che appare, ma voi esistete in quanto siete portatori di qualche cosa, di valori, di sentimenti, di emozioni, di sensibilità e, in fin dei conti, ciò che più racchiude tutto questo, tutti questi aspetti, sono le vostre passioni. Voi potreste essere benissimo identificati attraverso le vostre passioni più importanti. Chi può avere, non so, la passione per la cucina, chi la passione per la pittura, chi per lo sci, chi per i viaggi, eccetera, eccetera. C'è qualche cosa che vi identifica e vi rappresenta come soggetti diversi. Questo qualche cosa è la vostra sensibilità, come dicevo prima, la vostra intelligenza, tante cose. Ma tutte queste categorie poi confluiscono all'interno di una passione che voi perseguite, un hobby, un'attività, un qualche cosa che guida la vostra esistenza. Ecco, è più facile riconoscervi se voi mettete in mostra la vostra passione. Prima di tutto perché è più facile parlare della vostra passione. Se la vostra passione, non so, insegnate biologia, ma la vostra passione non è la biologia, ma è, che ne so, la letteratura, sarà più facile per voi esprimervi in campo letterario che non in campo biologico. In campo biologico farete delle ottime lezioni perché siete bravissimi, sapete fare delle ricerche fantastiche, ma dove viene fuori veramente la vostra personalità è quando affrontate i discorsi che riguardano la letteratura perché quella è la vostra passione. Allora, anziché parlare di stile, di creatività, di bellezza in modo astratto, che cosa sono le palette dei colori, come si combinano, eccetera, eccetera, siccome tutto questo deve essere rapportato a un soggetto in carne ed ossa, perfetto, parliamo delle vostre passioni, cioè parliamo esattamente di ciò che nel mondo, nella vita, vi appassiona. Ed ecco quindi di questo compito che voi potete proporre tranquillamente ai vostri studenti. Vale a dire, ragazzi, affrontiamo il tema della creatività e della bellezza, del nostro stile, arriveremo a creare un marchio, arriveremo a fare tante cose, ma dopo le regole di ingaggio, quindi che vi fanno capire che entriamo in un mondo nuovo, la prima cosa che dobbiamo affrontare è questa, le nostre passioni, anzi ne scegliamo una perché potrebbero essercene anche diverse, ne scegliamo una, quella più importante e parliamo di questa passione. Ora, però, come si può parlare di questa passione? Beh, vi trovate con gli amici, raccontate, normalmente parlate della vostra passione a persone che sono interessate a questa passione, vi ascoltano volentieri, o ad altri soggetti che condividono la vostra stessa passione. Siete in viaggio, amati i viaggi e quindi ecco i racconti di viaggio. Oppure, qualcuno che non ha mai viaggiato può essere interessato a capire come si affronta un viaggio, qual è lo spirito del viaggiatore, come si organizza, come si può prendere il meglio da un viaggio. Questi sono i due casi. Noi dobbiamo affrontarli entrambi, questi due casi, e dobbiamo distinguerli. In che cosa si distinguono? Si distinguono nel fatto che prima di tutto avviene un racconto della passione. Il racconto è, per esempio, ho imparato a viaggiare con mia mamma da piccolo, mia mamma faceva un lavoro per cui viaggiava spesso, ci spostavamo, cambiavamo casa, era bello incontrare nuovi compagni, nuove persone. questo mi ha dato una carica di un certo tipo, eccetera, eccetera. È il racconto, il racconto di una passione, come è nata, come si è sviluppata. Che cosa ti dà questa passione? Poi però, il racconto non basta, perché il racconto affascina, il racconto avvicina le persone, il racconto crea una comunità che parla, si racconta attorno a questa passione. ma ci sono tutte le persone e tutte quelle persone che non hanno avuto questa esperienza, che hanno sempre vissuto in un indeterminato quartiere, hanno viaggiato poco e sono affascinate da questi racconti. Noi dobbiamo cercare di metterle nella condizione di intraprendere, se lo desiderano, la nostra stessa passione, di provarla. Quindi qui non dobbiamo più raccontare, dobbiamo insegnare. Però insegnare è complicato, perché come fai a insegnare una passione? Devi trovare gli elementi costitutivi di questa passione. Per esempio, amo lo sci. Bene, che cosa devo fare? Ah, vai sul cerdino a 4.000 metri, pista nera e ti butti giù. No, non è così. Non puoi andare a sciare con degli ossessivi dello sci, perché dopo una giornata con loro si è ridotto uno straccio. quindi devi cercare di metterti nei panni di una persona che deve compiere i primi passi affinché non impari questa passione. Attenzione, perché non è, è un insegnamento non insegnamento, non devi imparare questa passione, ma deve essere, deve potersi avvicinare, provarla per capire se questa passione potrebbe un domani essere anche la sua. quindi è un modo per coinvolgervi, ma non attraverso il racconto, fornendo degli strumenti concreti. Quindi dirai, non lo so, vieni con me, noleggiamo un paio di sci, proviamo questa cosa, andiamo in una, vediamo un bel panorama, proviamo questa emozione, un po' per volta lo porterai dentro questa tua passione. ecco, se non si ragiona su ciò che ti appassiona, tu non puoi avere uno stile, perché di cosa parla il tuo stile? Di cosa parla la tua creatività? Di cosa parla la bellezza, cioè il piano estetico di quello che tu fai, se non alla fine di ciò che tu vuoi fare al meglio, perché questo ti appassiona e ti ha appassionato e ti appassionerà? La passione è alla base, chiamatela passione, chiamatela interesse, chiamatela hobby, come volete voi, ma è il motore che porta poi la persona a operare delle scelte, come è successo la nostra collega prima, perché lei che cosa ha detto? Ha detto a me piace insegnare, è una cosa che mi piace, voglio trovare anche dei nuovi modi, esperimento, eccetera, eccetera, e voglio che questa caratteristica emerga, emerga e quindi che il mio stile sia riconosciuto, quindi prima di tutto ha dovuto capire qual è il suo stile, riconoscerlo a se stesso e poi alla fine, a se stessa, e poi alla fine rappresentarlo attraverso un marchio. Questo è un processo. Noi facciamo dei nostri studenti dei soggetti liberi, riprendendo appunto le parole di Sabina, dei soggetti liberi nel momento in cui non gli spieghiamo che cos'è la libertà e l'articolo della Costituzione, ma nel momento in cui gli insegniamo a praticarla questa libertà. Ma praticarla a partire da che cosa? A partire dal proprio interesse, dalla propria passione. E guardate che non importa se metà della classe ha come principale interesse i videogame e l'altra metà ha come principale interesse i centri estetici. Non è questo il problema. Il problema è che si cominci a parlare di questo, che si comincia a cercare di capire qual è la strada che ci porta a rappresentare il proprio stile, chi siamo, che cosa vogliamo fare nella nostra vita, che cosa ci interessa, di che cosa ci occupiamo al meglio. E quindi ecco perché vi ho proposto questo compito che è molto importante e che penso che magari sia stato un po' sottovalutato all'inizio. se no, qualcuno dice ma che cosa può centrare questo con il corso che stiamo facendo? Beh, centra perché la prima cosa che io vi chiedo è di riflettere su chi voi siete, quali sono le passioni che vi guidano e quindi trovare per esempio come è spiegato nel primo compito, trovare per esempio i colori che possono rappresentare questa passione. Avete qualcosa da dire su questo punto? Ci sono delle osservazioni? Allora, il primo, il compito preliminare che io adesso non replico perché ce l'avete qui, avete qui la spiegazione. Il compito preliminare dice questo, scegliete una fotografia che rappresenti la vostra passione, per esempio appunto Amati lo sci ci sarà una fotografia di montagna o qualcosa del genere che la rappresenti o che vi ispira in modo particolare non per la composizione ma neppure per le immagini solo ed esclusivamente per i colori. La prima cosa che facciamo è dare un colore alla vostra passione. Questo significa che cosa significa in termini di un proprio stile? significa che quando noi creiamo dei modelli quindi modelli per produrre dei documenti scritti con immagini slide eccetera eccetera una delle questioni che dobbiamo affrontare è quali colori noi utilizziamo all'interno di questi modelli. i colori non sono mai una scelta casuale non possono essere scelti perché non so mi piace il blu mi piace il viola li mescolo uso faccio delle prove uso nei titoli questo poi uso un altro colore eccetera ma questi colori devono avere una coerenza. Ora nel mondo del design della grafica dell'illustrazione ci sono una serie di modalità che stabiliscono appunto queste coerenze perché ci sono colori primari secondari in modo con cui questi colori si combinano tra loro eccetera ma noi che partiamo invece da una rappresentazione della soggettività pensiamo a quali sono i colori che possono rappresentare la nostra passione perché perché quei colori sono colori a noi familiari sono colori che non ci disturberanno mai di cui non ci stufferemo mai perché sono i colori proprio della nostra passione allora ecco che cosa vi ho chiesto vi ho chiesto di scegliere una fotografia non necessariamente una fotografia che fate voi una fotografia che potete trovare e che utilizzate per ricavare i colori catturare i colori non ci interessano le inquadrature di montagna e mare eccetera ci interessa proprio questa gamma questa sfumatura di colori e che cosa fate con questa fotografia questa fotografia la importate in un'applicazione un'applicazione cloud quindi la possono utilizzare tutti che si chiama Adobe Color e che ha a disposizione di tutti coloro che la vogliono utilizzare è un'applicazione interessantissima che voi potete chiaramente impiegare in classe la possiamo vedere un attimo però ripeto non faccio tutta la procedura qui perché si trattava di un compito preliminare anche abbastanza semplice trascinare qui il file della fotografia che avete scelto se voi trascinate qui un file di una foto appunto che è quella che voi avete scelto in base alla vostra passione io ne prendo una qualsiasi che ha come tema la natura ecco la trascino credo che era un video Alberto ah sì giusto hai ragione bravo ma che occhio che hai questo non è un video ecco guardate che cosa fa questa applicazione individua i colori dominanti all'interno di questa fotografia voi potete spostare questi questi evidenziatori per cercare la sfumatura di colore che più vi piace oppure per cambiarla per esempio in questo caso puntate la tetta arancione di quell'abitazione oppure volete un blu meno intenso oppure più intenso la aggiustate che cosa avete ricavato avete ricavato una palette di colori cioè una serie di colori che stanno bene insieme e stanno bene insieme non perché l'ha deciso qualcuno ma perché l'ha deciso la natura noi ci ispiriamo in tutto ciò che riguarda la bellezza quindi colori composizioni forme eccetera eccetera ci si ispira sempre alla natura quindi qualche cosa che appare come equilibrato da un punto di vista naturale è anche equilibrato con un prodotto artificiale allora ecco ecco che voi avete una base per stabilire qual è la vostra palette che cosa fate beh prima di tutto fate una foto dello schermo così vi ricordate esattamente quali sono questi colori ma la cosa più importante è prendere nota di questi numeri di queste sigle questi sono dei codici si chiamano codici esadecimali ogni colore ogni sfumatura di colore è identificata da un codice esadecimale che noi possiamo utilizzare in qualsiasi documento e in qualsiasi applicazione per riprodurre esattamente questo colore perché dobbiamo riprodurre esattamente per esempio questo arancione che è un F59777 perché perché riproduciamo esattamente questo codice esadecimale non utilizziamo il termine arancione e tutte le volte che dobbiamo creare una composizione una lezione un documento scegliamo poi un colore arancione perché noi se operassimo in questo modo non riprodurremmo mai esattamente di volta in volta lo stesso colore in ogni documento o anche all'interno di uno stesso documento e quindi non rappresenteremmo in modo coerente la nostra scelta questa nostra scelta non apparirebbe come una bella scelta ma apparirebbe come una scelta confusionaria per esempio consideriamo che il colore noi stiamo lavorando su questo colore vedete è il primo qui a sinistra se nello stesso documento una volta io utilizzo utilizzo questa sfumatura un'altra questa sono tutte sfumature simili ma sono tutte diverse sono tutte simili guardate come cambia ma tutte diverse cioè stiamo all'interno di una stessa area se vogliamo noi vogliamo ma sono tutte diverse da una sensazione di incompiutezza di mancanza di coerenza addirittura di mancanza di cura di fretta di non applicazione di non interesse verso quello che facciamo allora questa scelta è molto importante perché noi ci ragioniamo ci ragioniamo con calma scegliamo la nostra palette prendiamo nota dei nostri codici esadecimali cosa che adesso faccio subito così anche se non è la mia palette preferita non c'entra niente con quello che faccio io però ce l'abbiamo come esempio c'è qualcuno di voi che ha svolto questo compito mi può dire anche così che sensazione ha avuto nello svolgere questo compito che credo sia un po' strano io siccome ripeto io ho visto solo ieri la mail quindi non avevo avuto il tempo di svolgere le esercitazioni però adesso mentre lei parlava io sono andata ad aprire e avevo aperto proprio questo ed ho inserito una foto insomma che avevo fatto qualche giorno fa io insegno arte e quindi era la facciata del Duomo insomma una foto del Duomo di Orvieto e quindi mi sono uscite tutte le palette è una cosa bellissima questa cioè che ti estrapola tutti i colori che giustamente formano un insieme omogeneo quindi tra di loro ed è una cosa interessantissima perché adesso già pensavo insomma ai ragazzi all'inizio dell'anno insomma soprattutto quelli magari di terza che sono un po' più più grandicelli insomma proporre una cosa del genere siccome abbiamo anche la stampante 3D già pensavo al logo stampato in 3D con i colori già stavo andando stavo viaggiando sì beh beh siamo qua per viaggiare per stimolare dei è una cosa davvero non sapevo che esistesse una cosa del genere ma è davvero bella davvero interessante allora pensate anche a come potete far ragionare gli studenti sulla bellezza della loro palette giustificarla per esempio cosa vuol dire giustificarla se voi considerate sempre questo esercizio preliminare provate a prendere questa questa infografica la vedete color emotion penso che la vediate no? color emotion se voi rivolgete delle ricerche tramite parete sul significato dei colori voi troverete molte informazioni e troverete anche molte infografiche di questo genere per esempio che possono associare questo è interessante perché perché associa una caratteristica ha un determinato colore e dimostra anche i marchi che hanno scelto quello come colore dominante qui siamo nel campo dell'ottimismo vedete a cui è associato un determinato colore e determinati marchi hanno scelto proprio questo colore che ha un significato preciso quindi potete avviare con i vostri allievi una serie di attività che riguarda proprio la rappresentazione della loro passione quindi anche della loro personalità attraverso determinati colori e potete fare in classe dei giochi per cui potete proporre una palette e un gruppo di persone immaginate una palette di colori questa una questa palette di colori poi sotto proponete i nomi di quattro studenti e questa paletta appartiene solo a uno ovviamente di questi quattro studenti e bisogna individuare qual è qual è lo studente che si riconosce in questa palette è uno strumento di conoscenza reciproca fatto non attraverso il solito modo chi sei da dove vengo eccetera ma fatto attraverso qualche cosa che ti tocca più da vicino nella tua intimità nella tua espressione di te giusto dunque questo era uno sono i due compiti preliminari che io vi invito veramente a svolgere a svolgere anche per la prossima volta e e poi questi compiti li vedremo perché li avete poi consegnati e quindi possiamo poi ritornarci su in qualsiasi momento adesso vediamo invece le attività che cominciamo a svolgere in diretta a partire da questo incontro per lavorare voi avete bisogno di un'applicazione che si chiama Adobe Creative Cloud penso che l'abbiate scaricata questa applicazione esiste tanto per iPad che per Android qui trovate i link i link per scaricare Adobe Creative Cloud da Apple questo e il link per scaricarla da Google Play e vediamo il compito di oggi abbiamo parlato quindi di colori di passioni stili abbiamo anche visto dove poi a un certo punto bisognerà arrivare che è l'elaborazione di un marchio e adesso invece noi vediamo cominciamo a vedere in che modo dunque cominciamo a vedere come il vostro stile può essere rappresentato può essere rappresentato prima di tutto attraverso i documenti che voi preparate i primi documenti che un soggetto prepara l'insegnante o no naturalmente è in foglio all'interno del quale scrive no riguarda la scrittura e quindi ci occupiamo proprio di questo dobbiamo creare uno stile di impaginazione ufficiale uno stile che vi rappresenti quando voi scrivete un documento in modo che si riconosca che quel documento è proprio il frutto di una vostra elaborazione e tutti i documenti a seguire saranno esattamente strutturati allo stesso modo io qua scrivo d'ora in poi non userete mai più nessuna applicazione di videoscrittura senza utilizzare gli stili adesso vedremo di che cosa si tratta come si utilizzino non andrete a capo due o tre volte per lasciare uno spazio sceglierete i rientri le dimensioni dei font e il tipo di font una volta per tutte però come possiamo creare una base che sia qualche cosa di personale per ciascuno di voi da dove partiamo allora guardate la prima cosa che dovete fare è stabilire quali sono i font che vi rappresentano i font sono quelli che a volte vengono definiti come caratteri proprio come questi come come questi che qui all'interno di GUR non permette una scelta no e quindi abbiamo un solo tipo di fonte probabilmente un area o qualcosa del genere voi dovete scegliere questi font quindi quando aprite un'applicazione di videoscrittura non so se voi siete stati portati a ragionare su quali font aprire per esempio questi sono dei documenti che io sto scrivendo bene questo con pages potete usare pages word quello che vi pare qui sulla destra voi trovate la scheda dei font che possono essere tanti pochi dipende da quanti ne avete installati in questo caso sto usando il mac ma fra due minuti passo a un ipad penso che abbiate tutti giocato con i font quindi per esempio cambiandoli in questo modo vedendo che cosa succede quando si cambiano i font però ci deve essere un criterio che potete utilizzare per scegliere i vostri fonti il criterio io ve lo fornisco attraverso questo esercizio che cosa dice questo esercizio dice che noi prima di tutto utilizziamo l'applicazione adobe creative cloud quindi adesso io condivido anche il mio ipad così vediamo subito all'interno dell'ipad ecco vediamo subito all'interno dell'ipad che cosa questa applicazione ci consente di fare e mettiamo il nostro compito sulla parte sinistra quindi ce l'abbiamo sotto mano e sulla parte destra invece vi mostro quello che dobbiamo fare all'interno dell'ipad allora per prima cosa abbiamo detto utilizziamo l'applicazione adobe creative cloud allora l'applicazione adobe creative cloud è questa questa qua questa è l'applicazione adobe creative cloud come andarla a prendere l'abbiamo spiegato anche prima avete avuto nell'altra nell'altro modulo che vi ho erogato avete il link per scaricarla sia la versione apple che versione android che cosa fa questa applicazione intanto fa un sacco di cose che servono per la nostra creatività e bellezza in questo caso nella fattispecie ne fa una che consiste nell'installare dei font all'interno del nostro ipad è una qui un equivalente per pc di questa c'è qualcosa per pc non lo so non saprei dirtelo per p ah beh no per pc se tu vuoi installare dei font per pc fai una ricerca attraverso google cerchi google font ah ok cerchi google font e lì puoi scaricare dei font per il tuo pc questo vale anche per il mac se uno desidera può fare una ricerca ricerca google font e scarica dei font per ma quale criterio però prima di tutto siamo in questa applicazione d'accordo nella home dell'applicazione vedete siamo nella home dell'applicazione sulla sinistra avete la sezione fonte mi seguite riuscite a seguirmi datemi un feedback sì 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 ok allora la sezione fonte che cosa vi propone vi propone di fonte a pagamento e di fonte gratuita guardate che i fonte vi ricordate quello che diceva Sabina prima lei ha retribuito i suoi allievi per la reddizione di un marchio estremamente corretto è un lavoro la creazione di fonte è un lavoro vi ricordo che Steve Jobs è stato il creativo che è stato da un punto di vista informatico se vogliamo ha inventato quello che ha inventato ma la sua creatività perché la sua creatività nasce proprio dalla costruzione di fonte lo sapete che uno degli hobby di Steve Jobs se non quello più importante era proprio quello di elaborare dei fonte di concepirli di disegnarli ecco perché il Mac poi ha avuto sempre questa grande attenzione verso la grafica e la rappresentazione della forma attraverso la quale i prodotti venivano costruiti e derogati quindi è giusto comprare dei fonti nel momento in cui voi dite ma il fonte che mi rappresenta che proprio del quale non posso fare a meno è questo che si chiama XY lo compro lo compro perché rappresenta è il lavoro di qualcuno che vi rappresenta allora siamo nella sezione fonte che cosa dice che cosa dicono le indicazioni che vi ho che vi ho dato e che sono delle indicazioni che voi potete tranquillamente utilizzare per i vostri studenti quindi riproponendo pari pari quello che state facendo qui con me lo potete rifare per conto vostro per arrivare ai vostri risultati ma anche proporlo proprio in classe come progetto esattamente nella successione che qui vi illustro allora voi dovete cercare due font due non di più perché due e non tanti abbiamo centinaia di font a disposizione perché ne devo scegliere due per alcuni motivi un motivo riguarda la comunicazione visuale non si usano mai più di tre font all'interno di uno stesso documento però noi riduciamo a due questo mai lo riduciamo a due perché perché in realtà ogni fonte è composto da una famiglia e le famiglie di fonte sono composte da delle variazioni che rappresentano tutta una serie di di grafiche differenti e quindi quando perché perché abbiamo il bold abbiamo il black abbiamo non so il corsivo abbiamo abbiamo dentro all'interno di un font questo font è una famiglia in realtà che rappresenta tutta una serie di variazioni quindi noi non possiamo utilizzare troppe variazioni all'interno di un documento perché creiamo confusione nel lettore quindi restringiamo l'indicazione classica di non utilizzare più di tre font ha due due font secondo quali regole allora seguite con attenzione i fonti devono avere queste caratteristiche entrambi devono appartenere a una famiglia molto varia che va ad almeno dal pink light per esempio fino al black vedi lo screenshot quindi qui abbiamo uno screenshot ah questo non lo posso vedere voi sì sicuramente lo potete vedere questo screenshot dimostra come una famiglia di font può essere articolata quindi entrambi devono presentare una famiglia molto varia poi uno di questi fonti deve essere con le grazie il fonte con le grazie ci servirà per il testo narrativo il corpo del testo per esempio potete provare con adobe garamond pro quindi proviamo a cercare attraverso la lente qui da questa parte vedete la lente proviamo a cercare adobe garamond abbiamo trovato adobe garamond pro ci dice ci propone di visualizzare la famiglia quindi cominciamo a distinguere il font non lo chiamiamo più font lo chiamiamo famiglia perché ecco come si presenta la famiglia di adobe garamond pro è sempre lo stesso font ma viene rappresentato graficamente in modi diversi molto diversi per esempio questo bold questo bold è molto diverso da questo italico tra l'altro che cosa avete notato che all'interno di questa famiglia abbiamo già un carattere corsivo cioè non è necessario come normalmente voi fate quando scrivete un documento di sotto di evidenziare tutto un periodo e poi attribuire il la forma corsiva al paragrafo che avete evidenziato perché i font più completi diciamo veri veri font completi quindi articolati attorno a delle famiglie presentano già queste variazioni per esempio abbiamo un semi bold un semi bold che è una cosa italica che è una cosa molto diversa dal selezionare un paragrafo per esempio selezioniamo questo paragrafo e poi gli attribuiamo il carattere italico che io sto facendo perché è una variante che mi viene proposta da google posso anche trasformarlo in un bold per esempio però un bold non è un semi bold e questo italico non è stato disegnato per questa famiglia di fonte è stato applicato sopra sopra il corpo normale quindi è qualche cosa di appiccicato al carattere non è qualche cosa che è stato elaborato da chi ha creato questo carattere che ha proprio disegnato la forma italica che deve assumere allora ecco il primo ragionamento che facciamo scegliamo un fonte per il corpo quindi per non so state scrivendo una una relazione avete i titoli i titoli avranno un determinato fonte mentre il corpo cioè tutto il contenuto narrativo avrà un fonte con le grazie sul tipo quindi che cosa sono le grazie le grazie sono questi elementi grafici vedete che allungano un po' vediamo se riesco a ingrandire ecco che sono degli ornamenti degli ornamenti che abbelliscono guardate la X non finisce quando termina la diagonale il segmento diagonale ma prosegue con un ulteriore elemento oppure questo questo è un glifo per esempio nella F quindi sono degli elementi che abbelliscono il carattere ma non è una bellezza fine a se stessa è nata ah ecco scusate avevo l'ho qui bello grande e non me ne ero accorto ecco questa è una grazia questa è una grazia questa anche e così via perché ci sono dei fonte che presentano delle grazie questi ornamenti perché la loro leggibilità risulta migliore se devo leggere un testo lungo è meglio che questo testo abbia le grazie se io devo leggere invece tutta una serie di slogan o paragrafi staccati che sono anche scoordinati tra loro da un punto di vista logico perché sono tante affermazioni tanti tanti temi diversi allora posso utilizzare un carattere senza grazie come questo questo è un carattere senza grazie poi ci sono delle altre distinzioni all'interno di queste due grandi categorie però a noi interessa intanto soffermarci cioè capire che esistono caratteri con le grazie caratteri senza grazie e come li possiamo utilizzare torniamo alla nostra applicazione cancelliamo la nostra ricerca torniamo indietro e cerchiamo dei font tra i fonti installati vediamo qualche cosa che abbia le grazie e che ci può che appartenga a una famiglia come fate e a sapere se appartiene una famiglia per esempio guardate questo fonte che si chiama supercleridon supercleridon contiene otto fonte quindi è una famiglia visualizza la famiglia vediamo com'è composta questa famiglia highlight italica anche un black molto interessante black potrebbe essere utilizzato in certe circostanze per evidenziare bene dei concetti è molto più forte di un bold e black e abbiamo addirittura un black italic magari questo potrebbe essere proprio un font che fa al caso nostro potete anche scrivere una frase eccolo qua dov'è sì qui in questa icona qua in alto a sinistra fate un tap potete scrivere una frase per esempio così ed ecco che vi mostra come questo fonte rappresenta sulla carta la frase che voi avete scelto vediamo anche il maiuscolo e vediamo anche un punto esclamativo così abbiamo un'idea migliore eccola qua bello è un bel carattere molto ben leggibile scusa Alberto sì dimmi che carattere è che hai scelto perché lo sto provando anch'io con l'iPad allora questo è un dunque questo è un super claredon è questo qua grazie super claredon mi sembra un gran bel fonte molto leggibile se avete scelto adesso fate qualche prova cercate un fonte con le grazie che vi piace cercate un fonte con le grazie che vi piace quando l'avete trovato diciamo che io posso essere interessato a questo mi chiamano claredon mi sembra lo posso aggiungere a tutte le applicazioni che ho nell'iPad quindi diventa un fonte a disposizione dell'applicazione che quindi lo ritrovo in page lo ritrovo in keynote eccetera in che modo facendo clic su questo pulsantino in alto a destra lo vedete sarebbe è un t più più vuol dire appunto aggiungi questo fonte quindi vuoi installare tutti gli otto font installa installa font i font tramite le rete potranno essere utilizzati da altre app perfetto installa eccolo qua sono comparsi tutti i check dell'installazione avvenuta bene state provando sì molti non sono inclusi nel pacchetto ma comunque ci si arrabbano sì dovete cercare quelli liberi ce ne sono anche diversi liberi che potete utilizzare ovviamente scusi io invece ad esempio sto cercando i font su google perché io non ho l'ipad e una volta che ho perché ho scelto ho cercato quelli con le grazie e una volta che io me li scarico poi posso usarli in word certo ma te li devi installare i font da computer vanno installati sì 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 infatti volevo capire una volta installati se poi potevo recuperarli in word questo certo li trovi in tutte le applicazioni perché vengono installate vengono installate a livello del tuo sistema operativo del tuo computer e quindi tutte le applicazioni può darsi che tu debba riavviare l'applicazione magari riavvi word ok col mac l'installazione automatica si vedono comparire immediatamente i fonti in tutte le applicazioni non c'è bisogno di riavviare qui dipende un po' quali sono le procedure ma tutti i fonti che trovate in google in google fonti sono gratuiti ok però per installare i font google all'interno dell'ipad e del tablet occorrono delle procedure un po' più complicate perché bisogna avere delle applicazioni specifiche per installarle quindi il sistema più rapido anche per evitare complicazioni con gli studenti e di impiegare questa applicazione creative cloud scusa alberto posso fare una domanda per quanto riguarda sempre il creative cloud font mi puoi spiegare il pallino celeste con la macchina fotografica e la T a che cosa serve in basso perché qui tu tu utilizzi sì allora tu inquadri un testo sì vediamo un po' perché in teoria quello che ho capito cioè io ho la possibilità di inquadrare un testo e e capire che tipo di mi dice che tipo di fonte è se lo sbaglio sì esatto ok poi selezioni il testo beh carino non so se trova questo comunque quindi diciamo interroga un database e ti dice che tipo di fonte è se lo sbaglio bene sì esatto quindi va bene non è che riesca sempre ma comunque serve per questo ok ok così avete scoperto che sono un appassionato di text reading non sei solo no a me piacciono questi cartonati informato francese dunque dove è qua ok questo è il testo eccolo qua e adesso lui fa la sua ricerca vediamo 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 ah però no sì insomma no ah sì vediamo no lui lui ti trova tutta una serie di famiglie che possono assomigliare vedi sì infatti però però no perché questo probabilmente questi sono fonte quelli per i fumetti sono fonte molto cari tra l'altro molto spesso sono disegnati apposta per un editore magari per una collana per un per un personaggio no quindi è difficile però ecco vedi per esempio questo qua l'indie flower regular eh può essere tranquillamente utilizzato per un fumetto quindi la stessa operazione la dovete ripetere per eh cercare un fonte invece senza grazie bastonato ci servirà per i titoli per esempio potete provare con un source san pro provate a fare questa ricerca così vi rendete conto di che cosa si tratta e poi cercate un fonte che comincia source source san 3 eccolo qua source san 3 è un source san 3 questo che ha una famiglia composta da 12 fonte questa guardate com'è pulito questo carattere molto leggibile molto molto pulito e anche anche un semi bold che è questo però se noi trovassimo un black vediamo un po' black ecco black per i titoli può essere più interessante proviamo a inserire un maiuscolo vediamo cosa succede tutto maiuscolo con un black che bella la mia passione in modo che sia black ecco ecco abbiamo se notate passione ha un bel carattere corposo si legge bene lettere le singole lettere sono ben distanziate leggibili ed è a uno spessore adatto a una lettura di un titolo vediamo qualcosa d'altro avevamo indicato un vediamo source sun pro ecco vedi che c'era un errore non me ne ho accorto ho scritto senza anziché senza qui abbiamo un source sun pro che ha 12 è una famiglia di 12 font estremamente leggibile guardate anche rispetto a quello di prima com'è molto molto bello poi contiene anche l'extra light e il light che sono molto interessanti perché sono poco impegnativi sono molto utili per esempio in alcune pagine web si possono utilizzare tranquillamente nelle note nelle note a piedi pagina vedete la differenza tra un extra light con un regular questo è l'extra light e questo invece è un regular ma proprio anche l'importanza della lettura è molto diversa l'affaticamento dell'occhio quindi ecco che dovete scegliere due famiglie di font una con le grazie e una senza possibilmente che abbiano molte variazioni sul tema tra cui anche il bold no scusate il black molto importante black e light ok vi lascio 5 minuti state facendo delle prove poi dobbiamo applicare questi font a una corretta impaginazione siete morti esistete sì siete tutti attenti sì sì ci siamo ci siamo ci siamo ma state preparando il tiramisù o state guardando il il tiramisù non sarebbe male eh no perché è l'ora è quasi le 5 vabbè trovare un po' di pausa dopo questa sì questa spiegazione facciamo magari i colleghi allora facciamo così no certo mi sono dimenticato sì la pausa allora facciamola adesso perché una volta che voi avete individuato il font e poi l'avete installato ricordate come si fa a installarlo ve lo rispiego sull'iPad eh perché l'iPad lo installa utilizzando questo pulsantino in alto a destra T più T più installa ed è a posto poi così volevo solo chiedere la registrazione perché io tra una mezz'ora purtroppo ho un impegno preso precedentemente e dovrò uscire volevo sapere la registrazione se verrà messa sempre su Classroom sì sì vi darò le indicazioni sempre su Classroom ok grazie poi a voi avrete un certo periodo di tempo per scaricarla prima che il corso anche quando il corso sarà chiuso avete ancora un po' di tempo per soffrire dei contenuti ok per scaricarla no proprio anche per scaricarla e tenervi eccetera perché poi le cancello sennò mi occupano poi troppo spazio certo chiaramente certo allora facciamo così facciamo dieci minuti sì dimmi dimmi perdonami Alberto scusa mi dice la Black Light e poi non ho capito scusa cosa volevi sapere sul SuperSense Pro per il testo cioè che carattere dobbiamo scegliere il Black Light no tutti tutti e 12 tutti 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 li dovete avere tutti perché installo tutti voi avete una famiglia di fonte e noi la useremo tutta questa famiglia ok allora gli scarico tutti perfetto grazie tutti sì benissimo allora facciamo così ci vediamo tra dieci minuti d'accordo sono le sei no sono le cinque cinque e un quarto va bene ok al massimo cinque e un quarto perfetto io ho bisogno di un poco di aiuto perché è andata via l'alimentazione elettrica e non ho seguito dieci minuti allora per installare stai parlando di dodici font ma mia scelta o cosa no voi dovete installare due font a due soltanto giusto uno 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 senza grazie e uno con le grazie ok va bene e come come si fa qual è il passaggio io ho perso questo passaggio con l'attività l'applicazione di creative cloud giusto io ce l'ho creative cloud l'ho scaricato quindi vado su adopt poi font poi no poi qui vedi sulla sinistra hai font la categoria font sì perfetto allora devi guardare le istruzioni all'interno del compito sì le ho lette quindi perfetto scegli un un font con le grazie e uno senza grazie che appartengono a una famiglia cioè che rappresenta come me ne accorgo sia le grazie o non ha le grazie perché i font con le grazie sono i font che hanno vediamo per esempio questo è un font con le grazie queste sono le grazie sono degli abbellimenti delle linee delle linee in più diciamo così per semplificare che rendono agevole la lettura ok e questi font servono per non so un romanzo per il corpo quando devi leggere tanto testo va bene poi ci sono i font senza grazie come questo vedi non hanno grazie sì e questi vanno bene per i titoli le note e altre cose ok allora puoi scegliere come fonte tranquillamente il source sun 3 lo ricerchi tramite la lente ricerchi il source sun 3 sì e poi tramite il pulsante T più questo pulsantino qua T più li installi tutti tutti vedi il fonte è diviso in si articola in una famiglia il fonte è sempre lo stesso ma viene rappresentato in modo diverso più spesso meno spesso più sottile ok li installi tutti ok source 3 l'ho fatto source sans 3 l'ho scandicato perfetto adesso ne scegli un altro invece con le grazie ok che pensi ti piaccia che non fatighi la lettura io ho scelto questo super claridon questo qua super claridon che va bene anche se no il miriade però addirittura è un fonte che è composto da una famiglia di 40 variazioni vedete è pazzesco però è un fonte anche molto utilizzato super super come hai detto super claridon claridon sì va bene interrompo perché anche io ho bisogno di bere e di riposarmi due minuti se no non riesco a bere grazie scusa ok no niente figurati va bene quando ci siete direi che possiamo riprendere cosa dite sì sì bene dunque prestate attenzione al punto 2 del compito di oggi che è questo eccolo qua qua punto 2 allora abbiamo scelto i nostri due fonte che in realtà rappresentano due famiglie che contengono tante variazioni adesso dobbiamo lavorare sugli stili all'interno di un documento pages quindi dobbiamo creare degli stili lo fate con me uno per uno con calma con calma ci ragioniamo e facciamo questa operazione dunque devo passare alla schermata dell'iPad ecco quindi adesso sono nel iPad e apro l'applicazione pages apro l'applicazione pages partiamo dall'inizio quindi usciamo da questa applicazione la apriamo da zero no ecco siamo all'interno dell'applicazione pages che cosa dobbiamo fare vediamo cosa dicono indicazioni dicono che dobbiamo aprire un documento nuovo e poi creare degli stili adeguati quindi con il tasto più questo lo sapete fare naturalmente in alto a destra creiamo il documento nuovo prendiamo pure un documento vuoto eccolo qua abbiamo un documento vuoto cambiamo il nome al documento vuoto facendo un tap proprio su vuoto lo rinominiamo e lo chiamiamo i nostri stili adesso immaginiamo che il nostro documento sia così composto abbiamo un titolo scriviamo proprio titolo e sarà un titolo di capitolo poi ci sarà un titolo di paragrafo e poi ci sarà una spiegazione in corpo adesso se voi notate io ho scritto tre cose differenti che però dovrebbero indicare proprio anche degli stili diversi voi che cosa fate normalmente e che cosa fanno i vostri studenti fanno così prendono titolo capitolo poi vanno su questa scheda che si è aperta aumentano per esempio così va bene 28 poi danno non so un grassetto poi vanno a capo due volte prendono titolo paragrafo giusto? anche voi fate così prendono titolo paragrafo sarà un po' più grande di titolo paragrafo ma un po' più piccolo di quello di prima poi ci sarà magari un bold poi qui sarà vanno a capo naturalmente una volta poi poi qui sarà mettiamo 13 cambiamo fonte con che ne so è questo e poi vanno avanti a scrivere eccetera eccetera poi che cosa succede? magari questo lo fate anche voi andate a capo e avete un nuovo titolo capitolo quindi andrete a capo due o tre volte scriverete titolo capitolo 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 due no? e poi a questo punto viene il bello perché volete fare in modo che questo titolo titolo capitolo due sia uguale a quello precedente però non vi ricordate che cosa avete combinato prima quindi salite evidenziate qui andate a vedere allora vedete che il fonte è un Elvetica New con dimensioni 28 allora cosa fate? andate sotto titolo capitolo due cerchiamo fonte cos'è abbiamo detto? Elvetica New cerchiamo 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 Elvetica New poi non vi ricordate più la dimensione allora andiamo a vedere sopra dimensione 28 28 perfetto quindi andate sotto evidenziate capitolo 2 e lo portate a 28 ok e poi c'era il grassetto sì? dimmi sì sì sto registrando certo prego prego no c'è la nuvolettina che appare di registrazione grazie per avermelo ricordato comunque no non ci siamo ah sì ci siamo vediamo un po' sì allora voi andate avanti a scrivere il documento e fate così poi alla fine del documento avrete 10 capitoli vi viene in mente che forse questo fonte non vi piace lo volete cambiare oppure volete cambiare il colore al fonte magari usare questo e lo dovete fare manualmente per tutti i capitoli è vero o no? insegnanti di solito si procede così giusto? no no no? chi ha detto no? c'è un metodo più rapido no chi ha detto no? non ho capito scusate no 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 Alberto so Carlo no non si procede così dobbiamo dobbiamo eh cosa fai tu si fanno le modifiche sulle generali si modifica capitolo uno stile paragrafo uno stile paragrafo ok allora si creano gli stili è questo si lavora sugli stili va bene meno male meno male che siete già un po' al corrente di questo ok però penso che sia te una minoranza essere al corrente di questo sì sì anche perché io mi trovo ad esempio a insegnare a un corso universitario quando c'è l'elaborato finale dobbiamo proprio dare il foglio con gli stili definiti perché se no ci fanno robe tutte così con spazi a tumore certo perché nessuno sa scrivere in questo modo esatto quindi non sono un paio d'ore apriamo un mondo sì esatto allora bene mi fa piacere che ci sia qualcuno di voi qui che conosce già quindi la struttura generale di quello di cui adesso parliamo che sono appunto gli stili come operiamo all'interno degli stili quali stili creiamo allora vediamo le indicazioni che vi ho consegnato quindi prima di tutto il corpo il corpo deve essere un fonte con grazie colore nero perché deve essere leggibile quindi nessun altro tipo di colore perché nessun altro tipo di colore perché il contrasto tra nero e il bianco è il contrasto più forte che esista e quindi non c'è niente di più leggibile del nero sul bianco voi pensate che io a miei studenti all'inizio dell'anno scolastico a tutti quanti vabbè regalo un quaderno eccetera eccetera ma regalo anche una biro nera e loro sono obbligati a scrivere sempre sul quaderno e per non parlare al computer ovviamente sono venuti a scrivere nero su bianco non è accettabile blu o altri tipi di colori intanto perché porto anche stiocchiali quindi vedete non voglio diventare cieco poi corpo 13 interlinea uno uno spazio dopo sei punti rientro prima riga 05 quindi applichiamo applichiamo questo sistema quindi che cosa facciamo quindi scriviamo una frase stiamo scrivendo lo stile corpo perfetto adesso noi facciamo questa operazione evidenziamo tutto il nostro un pezzo della nostra frase quello che è Alberto scusa e poi si vuoi vedere il tuo video è coperto da è vero hai ragione grazie bene quindi siamo qua così vedete anche la parte sulla destra giusto sì bene allora vedete che qui c'è scritto stile paragrafo e questo è lo stile del corpo lo stile del corpo è diverso da quello che noi vogliamo creare cioè non vogliamo questo stile intanto è senza grazie a noi non va bene abbiamo detto che la facilità di lettura viene con grazie quindi stile paragrafo che cosa faremo sceglieremo tra tutti i font quindi cosa avevamo scelto con le grazie adesso non mi ricordo cosa avevamo scelto però per esempio io in questo cap voi avete il vostro il Garamond l'Adobe Garamond Pro ci suggerivi nel compito il il Garamond Pro il Garamond Pro Adobe Garamond Pro però voi avete il vostro chiaramente no? avete avete fatto le vostre scelte sì certo io adesso ne scelgo uno Giorgia io per esempio io utilizzo spesso il Giorgia perché ha una grande leggibilità poi le dimensioni abbiamo detto 13 quindi lo portiamo a 13 poi abbiamo detto che il colore del test era nero quindi la spaziatura invece abbiamo detto uno e mezzo va bene va bene va a vedere sì possiamo anche fare così uno di regola uno come vi ho indicato quindi scrivelo proprio manualmente poi lo spazio prima era lo spazio dopo 6 punti rientro prima riga poi 0,5 quindi vediamo lo spazio prima cos'era? 6 punti colonne niente sono uscito se uscite dovete riselezionare la vostra parte e guardate che cosa succede appare il pulsantino aggiorna quindi lui aggiornerà lo stile corpo all'impostazione che abbiamo appena assegnato quindi facciamo così aggiorna benissimo adesso scusa Alberto una curiosità l'aggiorno poi sarà così anche per i nuovi documenti certo ok esattamente no per i nuovi documenti no cioè se tu dici apri un nuovo documento no ecco allora ritornasi sul default ok grazie infatti infatti dobbiamo creare un modello e utilizzeremo sempre quel modello lì perché appunto il lavoro che si sta realizzando diventerà un modello non un documento di base esatto bravo ok allora io adesso cosa faccio vado a capo non sto a riscrivere intanto vedete che sono andato a capo e ho lasciato una spaziatura sono i famosi sei punti che lui lascia a fine riga poi non sto lì a riscrivere faccio incolla vedete vado a capo di nuovo incolla ok quindi abbiamo creato uno stile corpo su quale poi possiamo continuare a lavorare mi dice aggiorno va bene no scusate errore perché ecco c'è stato un errore interessante questo puntino il puntino finale è il puntino finale nel vecchio stile e non in quello nuovo quindi che cosa devo fare devo prendere tutto il periodo e dargli come stile corpo su tutto non devo tralasciare naturalmente dei puntini allora prima del corpo però dovremmo inserire un titolo sarà qua giusto quindi vediamo quali sono le indicazioni per il titolo titolo capitolo quindi qui dobbiamo prendere un fonte senza grazie con un colore chiaro corpo 30 famiglia black interlinea 1 allora cosa vuol dire con un colore chiaro voi avete fatto la scelta della vostra palette la vostra palette doveva avere almeno tre colori quindi doveva avere un colore un po' più chiaro un colore un po' più scuro e un intermedio adesso come ci comportiamo scriviamo titolo sarà il titolo capitolo va bene poi selezioniamo naturalmente Alberto perdona mi leva il compito class scusa sì dimmi tutto no c'è il compito classroom che non fa vedere le operazioni che fa in piedi ah sì sì scusa è già abbiamo evidenziato quello che dovrà essere il titolo capitolo poi scegliamo a questo punto il fonte senza grazie quindi voi sceglierete quello che avete che avete stabilito io mi ricordo cosa ho installato ma comunque ne prendo uno per esempio prendo questo va bene e poi le dimensioni vediamo un po' erano cosa abbiamo dato abbiamo dato 40 a black deve essere un black quindi questo non va bene vediamo un fonte che abbia una famiglia completa può rendere anche un futuro che è un bel carattere eccolo qua ha un condentro non ha un black un futuro ovviamente per far uscire la famiglia del del fonte bisogna andare sulla information relativa devi andare sì devi cliccare sulla i sì esatto vediamo 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 allora cosa avevo installato prima non mi ricordo forse non l'ho installato ve l'ho fatto vedere ma non l'ho installato superclare Don questo vabbè ah super che sì allora non l'avevo installato vabbè non importa l'ho fatto vedere a voi ma poi non importa prendo un Avenir che comunque ha una famiglia abbastanza completa quindi abbiamo un Avenir vedete che l'Avenir ha una famiglia abbastanza completa abbiamo detto nero quindi un bel nero un bel nero con interdinero 1 dunque il corpo 30 va bene corpo 30 eccolo qua colore allora colore testo dunque colore testo dovete scegliere dovete scegliere il colore dovete scegliere un colore chiaro in questo caso perché perché il titolo del capitolo poi con quelle dimensioni è molto leggibile anche se il colore è chiaro quindi lo distinguiamo lo distinguiamo in modo tra i colori che voi avete scelto scusami Alberto dimmi 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 chiedi un problema di rimbombo cos'è un problema di rimbombo ah rimbombo sento sì sento che c'è un problema di rimbombo perché perché forse hai aperto due sì hai attivato l'audio sia sull'iPad che sul pc sul computer sì esatto è quello ma volevo provare a a lavorare sui due sistemi no la domanda era dove inseriamo l'esadecimale sì è quello che stavo cercando perché non lo trovo più dove si inserisce perché sul sul Mac c'hai la palette e inserisci e c'è proprio lo spazio per inserire l'esadecimale mi sa che i pages per iPad non ti permette di mettere l'esadecimale però però ti permette di prendere di prendere un'immagine vediamo un po' no no l'avevo fatto dall'iPad dunque no no c'era la possibilità di inserire l'esadecimale ma come aspetta un po' allora gradiente non mi interessa angolazione a più gradiente in intera pagina no no oh bella non mi dà la possibilità beh allora adesso non voglio perdere troppo tempo però cosa facciamo inseriamo un'immagine l'immagine famosa che aveva che avevate la schermata che avevate recuperato dalla vostra palette vi ricordate questa questa vedete che qui avete i vostri colori giusto bene allora cosa fate inserite questa immagine qui con la vostra palette se non riusciamo a risolvere questo problema dell'esadecimale allora inserite la vostra immagine se poi selezionate il titolo capitolo e dallo scopino colore testo in colore ecco in colore scorrete lo slider quindi siete siete in colore scorrete verso destra e avete il la pompetta la pompetta con la quale prendete per esempio abbiamo detto un colore chiave quindi questo azzurro basta basta toccare il colore e il titolo capitolo assume il colore che avete selezionato vabbè quindi col contagucce risolviamo questa cosa però sì dobbiamo mettere prima un'immagine sul sul documento la paletta sì vabbè ma tanto voi fate la schermata se no io perché sapete perché io uso anche il mac quindi tutti i modelli li creo con il mac no e poi dopo li importo tramite l'ipad in questo caso avete il titolo capitolo così quindi lo prendete al vostro colore però l'esadecimale ricordatevelo sempre perché dal mac invece è più pratico creare la paletta di colori con attraverso gli esadecimali e che cosa facciamo qui bisogna fare molta attenzione perché non dobbiamo aggiornare il corpo perché altrimenti siamo appunto da capo noi dobbiamo invece modificare lo stile è titolo quindi cerchiamo titolo dunque ecco scegliamo titolo e poi aggiorna quindi abbiamo scelto come fonte titolo e poi l'abbiamo aggiornato quindi abbiamo un titolo un titolo che sarà sempre così e il corpo del testo invece che sarà così come lo abbiamo creato sì guarda devo devo evidenziare il titolo con le caratteristiche giuste che abbiamo attribuito e poi anzi facciamo così torniamo indietro così rifacciamo le operazioni allora abbiamo scritto un titolo abbiamo scritto un titolo l'abbiamo scritto però all'interno del corpo perché abbiamo abbiamo inserito il testo e siamo all'interno però dello stile corpo non importa noi attribuiamo tutte le caratteristiche necessarie poi scegliamo il colore scegliamo il colore attraverso la nostra pompetta scegliamo abbiamo detto un colore chiaro questo e poi dobbiamo fare in modo che queste le caratteristiche del titolo capitolo siano applicate non al corpo ovviamente ma ma allo stile titolo quindi con questo questa freccetta che c'è qui a destra noi arriviamo a tutti i titoli facciamo tap su titolo facciamo un tap solo su titolo compare il pulsante aggiorna perché lui vede che lo stile non corrisponde e quindi a questo punto stabiliamo si aggiorna aggiorna e vedete che anche nella forma gli stili assumono le caratteristiche che abbiamo attribuito loro poi guardate che si no prego poi guardate che cosa facciamo utilizziamo questo pulsante modifica modifica per portare il corpo sotto il titolo e poi per cancellare una serie di cose che non ci interessano li togliamo tutti questi titoli che non ci interessano questi stili che non ci interessano li ricreiamo da zero tutti quelli che possiamo ricreare da zero proprio li creiamo da zero perché così vi insegno anche un'altra cosa quando vogliamo eliminare uno stile lui mi dice a quale stile associarlo scegliamo il corpo normalmente e lo togliamo quindi abbiamo nel nostro documento abbiamo un documento creato con due stili lo stile titolo e lo stile corpo poi abbiamo detto che procediamo con scusa Alberto sì dimmi potresti un attimo ripetere perché mi sono persa proprio l'ultimo passaggio per favore grazie sicurati guarda eravamo qua abbiamo visto che abbiamo degli stili che non ci interessano qui giusto mi segui sì e con il pulsante modifica li togliamo per non avere complicazioni specialmente quando forniamo agli studenti un modello poi costituito lasciamo il documento pulito solo con gli stili che abbiamo creato adesso io sto cancellando no no aspetta adesso io voglio cancellare per esempio questo questo stile che si chiama intestazione faccio tap sul pulsantino elimina e lui mi dice però lo stile intestazione io non te lo voglio eliminare così forse perché c'è qualche parola qualche paragrafo che l'ha utilizzato con cosa lo vuoi sostituire noi diciamo sempre corpo poi sceglieremo lo stile idoneo per quel punto così tolgo anche stile intestazione piedi e pagina attribuisco lo stile corpo e lo tolgo tolgo anche nota di pagina elimina e clicca su fine e mi ritrovo con i due titoli che ho creato ok grazie benissimo quindi abbiamo un titolo capitolo poi abbiamo un titolo paragrafo anche quindi scriveremo titolo paragrafo questo titolo paragrafo questo titolo paragrafo sarà invece avrà le caratteristiche quindi un fonte senza grazie colore chiaro o intermedio interlinea 1 famiglia eventualmente semi bold spazio prima 20 spazio dopo 9 queste sono le caratteristiche adesso siccome le avete tutte indicate qui le caratteristiche è inutile che io le applichi esattamente con precisione facciamo una un'applicazione di queste caratteristiche in linea di massima che possa distinguere se vado in alto nei fonti io ritrovo sempre gli ultimi fonti utilizzati quindi lo stile titolo capitolo e titolo paragrafo si basano sullo stesso font però sarà un nero non così importante come titolo capitolo per quanto riguarda il colore quindi scegliamo dalla dalla nostra palette un colore che può essere anche quello di prima perché tanto abbiamo una distinzione molto evidente e adesso devo aggiungere il titolo paragrafo ai nostri due stili cioè lo stile titolo paragrafo ai due stili che abbiamo creato per farlo utilizzo il pulsante più come l'ho ricavato il pulsante più allora ho ricavato il pulsante più in questo modo ho selezionato il testo poi ho scelto sono andato qui dove c'è il corpo però devo stare attento perché il corpo non mi interessa modificarlo e riutilizzo il pulsante modifica quello che prima mi è servito per togliere cancellare degli stili adesso lo utilizzo invece per aggiungerne quindi con questo pulsantino più ecco che ho un nuovo stile che chiamerò titolo paragrafo proseguendo in questo modo posso creare lo stile delle note e lo stile della citazione quindi ricapitolando prestate grande attenzione a questo punto noi non abbiamo bisogno di creare tanti stili ma di creare questi cinque che sono il corpo poi la citazione che serve appunto quando citiamo dei passi le note cioè le note a piedi pagino o a fine documento poi il titolo capitolo e il titolo paragrafo per i titoli utilizziamo dei font senza grazie senza grazie e anche per le note senza grazie per le citazioni scegliete voi a me piace utilizzare anche in questo caso un font senza grazie però normalmente per esempio tutta la saggistica pubblicazioni così utilizzano invece lo stesso font del corpo per le citazioni lo stesso font del corpo però adattandosi di lezioni di documenti per gli studenti eccetera differenziare lo stile corpo dallo stile citazione è utile per aiutare lo studente a fissare la differenza tra i due contenuti quindi il vostro compito sarà quello di creare un documento voi prenderete un vostro documento e lo rielaborerete in questo modo dovrete fare arrivare a questo punto cioè ad avere qui soli cinque stili possibilmente in ordine in modo tale che prima ci sia il titolo poi il titolo paragrafo poi il corpo poi la citazione poi le note Alberto volevo una chiedere un chiarimento scusami dimmi noi di solito come docenti si insiste o riceviamo insomma io non insegno insegno su materia non sostegno per non usare font con le grazie all'interno del corpo perché se c'è uno studente che abbia un disturbo specifico dell'apprendimento di tipo dislessico fa fatica farebbe fatica uso il condizionale perché ormai non si sa più a leggere con le grazie però noi abbiamo usato il contrario abbiamo usato tanto testo con le grazie il titolo che è poco senza sì no in realtà non è un problema questo se le dimensioni del fonte e la spaziatura sono sono ampie sì sì poi mi sembra anche non so nella mia esperienza di aver visto ad esempio che l'open va bene in certi casi però io preferisco creare un documento cioè allora se ci sono dei ragazzi che hanno dei forti disturbi allora a volte posso usare anche quei fonte in particolare però sì però non per tutta la classe chiaramente adesso stavo solo chiedendo perché noi qua abbiamo fatto proprio il contrario invece cioè abbiamo era solo così un approfondimento diciamo epistemologico perché abbiamo seguito le regole di leggibilità standard sì sì poi tra l'altro adesso anche Word ti fa lui il controllo di leggibilità quindi ti ti dice se il testo che hai prodotto è leggibile è inclusivo diciamo da questo punto di vista sì però prima che il testo sia inclusivo voi dovete pensare che il testo sia bello da leggere perché nel momento in cui il testo è bello da leggere guardate che è anche molto inclusivo e tanti problemi scompaiono no no sfondo una porta aperta nel senso però sì sì sono d'accordo questo testo è leggibile anche da ragazzi slessici senza grossi problemi o perlomeno con gli stessi problemi che hanno se noi cambiamo fonte li utilizziamo tra l'altro abbiamo fatto degli esperimenti anche sulla velocità di lettura ma la velocità di lettura con fonte specifici varia di microsecondi non è così fondamentale cioè sì no no infatti anche nella mia anche nella mia esperienza le variazioni a cui abbiamo assistito sono minime allora è meglio utilizzare un bel un bello stile aspetta che voglio togliere questa eccola un bello stile che sia molto ampio e che abbia una bella visibilità perché questo agevola tutti nella lettura i ragazzi dislessici e tutti gli altri per fare questo però noi ci dobbiamo occupare anche della dimensione della pagina attenzione perché uno dei principi appunto di leggibilità importanti da seguire è che la pagina non dovrebbe contenere più di 1800 battute spazi compresi cioè non dovrebbe essere composta più di 30 righe per 60 caratteri per riga quindi vedete che noi dobbiamo innanzitutto buttare a mare tutta quella massa di documenti che sono scritti con interdinea 1 pieni di testo per non parlare poi delle slide figurati poi apriremo un discorso particolarmente interessante al prossimo incontro dunque noi dobbiamo ragionare proprio sulla pagina come ragioniamo sulla pagina allora guardate sulla pagina si ragiona in questo modo abbiamo questo 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 pulsantino aspettate dov'è allora dov'è che dell'iPad io sistemo la pagina allora da qua dunque da qua impostazioni allora vedete qui ci sono i tre puntini e che danno accesso a una serie di voci noi scendiamo fino a impostazioni impostazioni modifica aspetta dov'è dov'è finito impostazioni novità impostazioni ecco non è impostazioni non hanno mai cambiato questa voce che trae in inganno perché ci sono due impostazioni c'è impostazioni documento e poi c'è un'altra impostazione quindi scegliamo l'impostazione documento l'impostazione documento quindi che è verticale ci presenta l'impostazione documento qui sotto più opzioni quindi ricordatevi tra i puntini impostazione documento più opzioni qui noi manualmente addirittura possiamo regolare proprio graficamente come appare il documento sulla pagina cioè lasciamo degli ampi margini degli ampi spazi bianchi guardate qui intorno un ampio spazio bianco è preferibile lasciare un ampio spazio bianco sulla sinistra stiamo parlando di documenti che si vengono elettronicamente altrimenti a stampa andrebbero lasciati alternati a sinistra e destra quindi sulla sinistra poi scendiamo e lasciamo un bello spazio bianco in alto e un bello spazio bianco in basso in questo modo quando abbiamo finito poi facciamo tap su fine in questo modo la leggibilità del nostro documento migliora molto vedete dove inizia il capitolo inizia sotto proprio questo è tutto spazio bianco questo è spazio bianco anzi possiamo ancora aumentare lo spazio bianco sulla sinistra così adesso guardate che cosa faccio faccio una cosa un po' curiosa cioè devo riempire devo riempire di testo questa pagina per poter capire quanti sono i caratteri quindi seleziono copia poi in calma poi in calma poi in calma 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 ho ottenuto una pagina e qualcosa vediamo su questa pagina quanti caratteri abbiamo ci dice che ne abbiamo 1596 facciamo così abbiamo la nostra pagina pulita siamo a 1485 caratteri facendo tap sull'indicazione che ci viene data sul numero dei caratteri 1485 noi possiamo vedere quanti sono i caratteri con spazi all'interno di questa pagina sono 1709 va bene perché dobbiamo stare intorno al 1800 quindi questa è una pagina leggibile che però rappresenta un nostro stile perché i fonti i colori le scelte che abbiamo fatto ci appartengono appartengono a noi mi avete seguito fin qui abbastanza chiaro a qualcuno ha alzato la mano però io non vi vedo perché sono concentrato ovviamente sul se inserite un'immagine all'interno chiaramente i caratteri non saranno più 1800 saranno meno non importa c'è un'immagine anche l'immagine deve essere deve avere deve essere contenuta con un bello spazio intorno un bello grande spazio intorno ci siamo sì sì perché adesso dobbiamo esportare questo documento come un nostro modello è il modello sul quale noi lavoreremo tutte le volte che apriremo un documento di pages noi utilizzeremo questo modello poi condividerete i modelli documenti che avete creato e poi la volta prossima inizieremo col parlare di quello che avete fatto in modo che vi possa dare ulteriori consigli prima di passare al contenuto della prossima lezione allora come facciamo a creare un modello mi seguite cioè come facciamo a trasformare questo documento in un modello che possiamo utilizzare o distribuire ai nostri studenti tramite il pulsante esporta è molto semplice lo esporto in tutti i formati che voglio qui c'è scritto modello di pages lo esporto come modello di pages lui però che cosa fa mi offre due opportunità dovete prestare grande attenzione qui perché posso aggiungere questo documento ai miei modelli che è la cosa che voglio fare perché quando apro un documento di pages desidero che fra i vari modelli proposti ci siano quelli che ho creato io oppure posso anche inviare questo modello a qualcuno e quindi lo invierò a tutti i miei studenti per dire guardate ragazzi che d'ora in poi per tutto ciò che riguarda geografia questo è il modello che utilizza bene allora proviamo ad aggiungere i nostri modelli aggiungi ai modelli aggiungi ai modelli lo mette qui sotto qui dove c'è i miei modelli ci sono altri modelli che ho creato lo metti in ordine alfabetico e appare qua i nostri modelli eccolo qua quindi va bene e qui va benissimo noi diciamo che questo è proprio il suo posto perfetto boing boing mi si è bloccato basta me l'hai messo allora che vuoi va bene riapriamo il documento allora esporta esporta come modello di pages lo esporti come lo aggiungi ai miei modelli eccolo qua i nostri stili ne ha messi due perfetto ecco adesso la ripresa funziona dunque una volta che è stato aggiunto ai nostri modelli guardate cosa faccio io chiudo pages perché dobbiamo scrivere un altro documento che abbia le stesse impostazioni quindi apro pages e scelgo il tasto più di nuovo documento e appaiono tutti i modelli che sono offerti da pages direttamente ma se scorro in fondo trovo i miei modelli eccolo qua trovo i miei modelli e all'interno dei miei modelli trovo i nostri stili eccolo qua questo è i nostri stili e quali sono gli stili associati a questo modello sono quei tre adesso io ne ho creati solo tre voi dovete creare cinque ma abbiamo solo ed esclusivamente quegli stili che hanno il nome che noi abbiamo stabilito che debbano avere tra l'altro ci siete fino a qui perché manca l'ultima cosetta sì tutto chiaro sì va bene perfetto perché guardate adesso che cosa avete voi voi avete nel compito qua qua l'uno due del ventidio agosto che cosa avete voi avete associati dei modelli quindi avete modello di france template e modello di france zip modello france template è un modello che io vi consegno come fate a installarlo nell'iPad avete anche la versione link tra l'altro no perché qui appare non c'è la versione con link perché avete tre possibilità di utilizzare questo template riapro la lezione e qui ecco ne avete tre esatto avete anche il link benissimo dunque sono questi tre esattamente tre modi di distribuire un template il primo prendiamo il primo faccio un tap sul primo questo prendiamo modello france template faccio un tap bene poi gli dico scelgo condividi dove dove ti chiede l'accesso praticamente va su google drive e ti chiede se è necessaria l'autorizzazione sì ma non dovete andare da iPad non dovete andare su google drive eh ma se faccio tappo su quel su quel no fai un tap prolungato ah ecco ok va bene allora un tap un tap prolungato va bene e scarichi il file collegato vedi cioè si tu scarica fai un tap prolungato e scarichi il file collegato e qui tu hai modello france no no col tap prolungato anche non mi va si apre sempre google drive strano non so beh allora vedi ho messo tre opzioni allora guardate ho messo sì ma comunque avete tre avete tre opzioni avete anche il link male che vada usate l'opzione con il link il link vi collega lo stesso template su un mio dropbox adesso siamo collegati a questo template su un mio dropbox poi dai tre puntini scegliete condividi esporta il file in pages forse questa è l'opzione più semplice ne ho messe tre perché il link è molto più semplice fate una volta che è entrato in dropbox fate esporta e lo aprite con pages direttamente lui lo aggiunge ai modelli automaticamente sì quindi ricapitoliamo siamo all'interno degli allegati alla lezione scegliamo il link apri in dropbox no scusate sì ops dove era apri in dropbox eccolo qua apri in dropbox poi in dropbox vi appaiono questi tre puntini e da questi tre puntini voi abbiate la condivisione vedi condividi quindi condividi scusa ma a me dice accedi oppure registrati sì perché è da google lo stai aprendo da usa il link sì sto usando il link oppure cosa dice ah stai usando il link quindi sei in dropbox sì bene e che cosa ti chiede allora o dice scarica poi dopo poi dire sull'inato lo scarica lo scarica scarica lo scarica e poi lo scarica una volta scaricato lo apri con pages fai apri in pages e lui lo aggiunge ai modelli automaticamente e lui ti chiede vuoi aggiungere i modelli tu lo aggiungi Alberto chiedo scusa sì volevo suggerire ai colleghi i modelli chiamateli con diciamo affiancando al nome del file il suffisso template in modo che così quando aprite un file non corre di rischio di cancellarlo di cancellarlo insomma cioè io i modelli li chiamo sempre ad esempio mio modello template sì template non lo so template modello insomma quello che si vuole lezione di geografia template se no si rischia di avere se no si rischia di avere lo stesso nome del file se si vuole cancellare si rischia di cancellare il template anziché il file ok certo sono riuscita anche se compaiono franzo 1 franzo 2 franzo 3 perché l'ho scaricato sì vabbè certo l'ho scaricato poi cancelli togli eccetera ecco questo per esempio quello che avete quello che avete è un mio template per con i miei colori e i miei font però se voi non li avete quei font lì ovviamente lui li sostituisce no quindi è chiaro adesso che cosa dovreste fare noi siamo arrivati alla conclusione di questo primo incontro va bene che cosa dovreste fare dovreste creare proprio un vostro modello in modo tale che poi la volta prossima ne possiamo possiamo dedicare l'inizio della lezione a questo la volta prossima è dedicato a keynote vedrete usato in un modo molto diverso da quello che viene normalmente impiegato da insegnanti o studenti creeremo attraverso la strutturazione in modelli di veri e propri quaderni molto interessante questa cosa però prima diamo un'occhiata ai lavori che avete prodotto ma proprio così per vedere darvi dei consigli e intanto io di qui a venerdì vi fornirò delle altre risorse utili appunto per la creazione di modelli esempi e cose di questo genere ok che dite siete sempre per per tirami su? no assolutamente è stato abbastanza chiaro questo primo incontro utile anche? no io voglio ritornare all'inizio perché nonostante all'insegnamento ci sono arrivati dopo 35 anni di grafica io il mio marchio il mio logo non lo tenevo ho provveduto subito me lo sono realizzato seguendo le tue spiegazioni bene vedi tu hai insegnato grafica dove diciamo che l'incarico a Perugia era proprio qui però per non restare lontano da casa ho fatto il trasferimento e prima disegno storia dell'arte adesso addirittura le anzi no con mio sumo piacere arte immagine la seconda secondaria di primo grado e vabbè sono delle sfide che mi sono imposte e tante le sto vincendo bene bravo bene tanti auguri allora e complimenti no vabbè no no complimenti a chi da sabine suggerimenti e indica la strada quindi grazie a te voi avete ricevuto oggi una cosa che serve a voi ma anche una procedura completa di lavoro con i vostri studenti quindi regole d'ingaggio le mie passioni poi cercare i colori che rappresentano la vostra passione quindi cercare due font uno con grazie uno senza grazie questi font che appartengano a una famiglia ricca che rappresenta una famiglia ricca quindi puoi costruire il modello impeggio un modello che deve avere non più di 1800 battute ampi margini spazi bianchi testi grandi leggibili e ben ordinati grazie da quando è possibile risentire la registrazione quando verrà immessa eh adesso ci vorrà un po' di tempo ma prima della successiva lezione no entro stasera è possibile no no stasera no perché sono in vacanza anch'io ed è un'operazione piuttosto gughetta perché devo andarla scusare no ci vorrà un po' di tempo sì intanto prima di prima di chiudere vi faccio aspetta un secondo prima di chiudere vi faccio vedere una cosa questa questa è l'impaginazione di un di un documento che sto scrivendo sono delle analisi testuali no non è ancora non è ancora ben ben articolata però siamo in pages per Macintosh all'interno di pages per Macintosh ecco che abbiamo la possibilità di registrare la nostra palette dei colori qua vedete abbiamo la possibilità di trascinare il colore e poi abbiamo la possibilità di usare anche l'esadecimale che è questo sì ovviamente la versione per Mac è più eh sì certo più completa eh sì basta volevo solo dirvi questo eh perdono io ho una cosa che volevo appunto togliermi il dubbio ma diciamo che ci sta la compatibilità e la condivisione in tutti i device Mac ma eh mica è obbligatorio far far il progettazione sul sull'iPad perché io no 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 per esempio utilizzo il mio Mac il l'iPad sì per la comodità trasportabilità e altro per interfacciarlo con le LIM e tutto quanto però io ci tengo i documenti che gestisco a livello di progettazione sul computer certo certo no questo vincolo no 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 questo corso è prevalentemente orientato iPad perché diversi insegnanti hanno chiesto questo perché nella loro scuola sono stati introdotti di iPad quindi abbiamo un occhio privilegiato all'iPad ma per questo motivo poi le procedure che io vi ho elencato per esempio anche chi di voi utilizza Windows con Word naturalmente va a cercare in che modo quelle procedure possono essere realizzate quello che conta è il metodo il metodo è il cambiare è proprio cambiare una prospettiva cioè i documenti devono essere impaginati e rappresentare uno stile che è proprio lo stile arriva tramite la scelta dei colori e i font questi due elementi mentre la leggibilità deriva dalla disposizione del testo sulla pagina sono due elementi diversi che si combinano e creano appunto questo stile questa leggibilità ok chiarissimo è un po'